ciao raga motore di lolletti e gelosi a meno poi gli scrivono a lui non mi scrivono a me allora andiamo intanto a aprirlo per aprire un motore ci vuole la chiave per avere una chiave ci vuole un albero per fare un albero ci vuole il legno andiamo a svitare brio ce l'ho la cassettina ho la chiave a cric l'avevi vista mille volte raga l'avevi vista mi rompevo io con le chiavine zanzale di merda io li svito come mi pare e li faccio e li preparo come mi pare d'accordo poi ce l'avevo e chi c'ha da bucare ce l'hanno loro questa chiavina questa chiavina che ce l'hanno questo è di 10 come mai di 10 studiato di 10 ci va solo sugli mp1 che hanno il prigioniero più piccolo messi un po a forza e sti bulloni lolletti messi un po in a forza ecco a caso che sono nemmas tace a parte me l'ha detto un partiva cilindrino nuovo nuovo di zecca ma guardate buono e si farà anche le luci a questo cilindrino qui si fa anche le luci gli si fa anche le luci e lolletti gli si fa anche le luci ora andiamo a svitare la cuffia una cuffia si una cuffia no e noi la svitiamo ora qualcuno dirà che puttanaio c'è ancora sui banco ma vi fate cazzi vuosi questo non è non è confusione questa vita non è nemmeno la sua dove la trova sta vite d'acciaio che vite e rondelle d'acciaio e che va sott'acqua sto motorino di buono ci metterò le vite d'acciaio ma non si svita nemmeno a piangere queste due tre e quattro e le viti sono qui e la cuffia la si leva ora con l'ausilio di un estrattore andiamo a levare il volano con l'ausilio di un estrattore andiamo a levare il volano volano puntine 9 condensatore nuovo bellissimo questo scotch qui è bellissimo complimenti al meccanico bellissimo poi gli ha cambiato il condensatore e gli ha rilasciato la spugnina vecchia bravo complimenti andiamo a levare l'albero per levare l'albero ci vuole le pinze apposite l'albero scusate il pistone si riattacca alla calamita ora qualcuno ci avrà da ridire dice guarda come levi il pistone con i cacciavite che io lo levo con sto cazzo se no visto? senza battere come dei cantanti batti ma se una grip up e una scardata questa è d'alluminio si stringe e lo spinotto non esce oh maremma bucaio adesso devo fare un video incazzare si riappoggia le spinottino e si mette il pistone da una parte ora andiamo a aprire il carterino per aprire il carterino prendiamo una chiavina non era mia tanto strizzare eh no no david non mi puoi mettere queste qui filettate no no e no maremma andiana fammi vedere se c'è anche questa filetta eh però io ho l'ausilio del mio svita tutto che rimane la vita attaccata dentro ecco vasa rondella no queste filettate no 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 anche no 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 ma che lei di 11 eh sta un picchino non viene no troppo di buono troppo se si ingambia così le viti troppo di buono ora tutti saranno contenti di vedere come lo apro come si apre il motore di lolletti intanto si leva la zeppettina che questo è un incastrata bene di più quindi per levare la zeppettina noi andiamo a prendere un pappagallino appagalli ebrio risponde se pettina si riattacca la calamità poi si leva lo spessore che è quello delle puntine manca roba che è ma con lo spessore qui ciccio manca uno spessore qui e si è e adesso si prova con un martello di gomma per prima cosa se lo trovo dottamesso mire martelli gomma e troppo gioli ma l'indon lo trovo ho detto che ho messo tutto lì tutto attorno a posto alla dimmi dove con il martello di gomma andiamo aprire carte però siccome sono duri noi cosa facciamo cosa facciamo noi con l'ausilio di una pistola termica andremo a scaldare il blocco motore ok Si fuma? Fumiamo! Filolo con tirometri di trend, con cavette e ogni cosa. Nessuno? Campanici 40, cazzo mi brucia, fischia! Per i celosi questa arriva a 550 gradi, non so se vi basta. Ma, li ho letti quando ti ha reuso la carta, li ha scaldato? Scaldati? Si, scaldati no? Ci pensate a creare! tanti commenti ci sarà ora fischia se l'era il motore mio glielo rimandavo indietro questo l'ha fatto un meccanico io non sono meccanico e per ragazzi ascoltando la chat non c'è nemmeno la terza media e un'altra cosa io iniziava a 14 anni a smontare i motori e ce ne ho 46 fai conto voi e tutti che li ho spedito e mandato non se mai lamentavo nessuno e su 30 no 30 forse sono troppe su 25 gare otto l'ho vinte sicché vuol dire lì fu bene no fischia mire brucia quasi ora tra un po vi saluto perché manca tre minuti la gopro di cazzo fa i video fischia se brucia avete visto come è venuto via subito brucia però ora si smonta le puntine e si leva anche l'albero no lo levo subito borda rompi il telefono questo è l'albero che io andrò ad anticipare ai miti oletti a gratis almeno gelosi gelosi i cuscinetti sono perfetti va perfetti non fanno il merrimore beh li andrò ad anticipare a gratis ai miti oletti ciao raga ciao